In questa puntata, Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una risoluzione di apprezzamento per i risultati conseguiti nel corso del 2020 dal Difensore Civico della Toscana. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione relativa all'attività svolta nel 2020 dal Difensore Civico regionale. Un'attività che è proseguita nonostante l'emergenza sanitaria. Il Difensore Civico ha garantito per tutta l'emergenza sanitaria anche una presenza fisica presso gli uffici. E bisogna riconoscere che le istanze che i cittadini toscani hanno rivolto al Difensore Civico nel 2020 sono state in numero anche maggiore rispetto agli anni precedenti. Si è lavorato anche per un contingentamento dei tempi finalizzati a dare delle risposte alle istanze dei cittadini e si è molto sviluppato l'apparato conoscitivo del Difensore Civico in tutto il territorio regionale. Sia attraverso un'adeguata campagna informativa, sia attraverso l'apertura di sportelli decentrati presso alcuni territori della nostra regione per rendere più prossimo il contatto tra il cittadino e l'Istituto della Difesa Civica regionale. Il Difensore Civico regionale toscano si distingue da sempre per intervenire in materia della responsabilità professionale, soprattutto di carattere sanitario, per l'intensa attività svolta in sede di commissioni conciliative miste presso le aziende sanitarie e anche per essere stato determinante nella risoluzione di parecchie controversie collegate al servizio idrico e in prospettiva ci si avvia ad una fase in cui il Difensore Civico possa arrivare, anche attraverso un accordo con AIT, a gestire le controversie collegate alle altre utenze come luce e gas. Per queste ragioni, auspicando anche che si possa svolgere tutta quella attività indispensabile per arrivare alla costituzione della figura del Difensore Civico nazionale, il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la risoluzione contenente la relazione del 2020 del Difensore Civico regionale. Esprimo soddisfazione per l'attività che posso dire per quanto riguarda la mia provincia ho seguito in parte anche da vicino perché è stato aperto uno sportello decentrato in Val di Chiana, Retina, Castiglione e Ferentino. Siamo arrivati a dieci sportelli dove i cittadini oggi possono portare le loro richieste. Ho sollecitato il Difensore Civico per i problemi della telefonia nella montagna cortonese, il Digital Divide. Ho segnalato i disservizi per quanto riguarda la mancanza di corrente elettrica in un'area della Val di Chiana, Manciano, comune di Castiglione e Ferentino. Posso dire che sta diventando sempre più importante la funzione del Difensore Civico anche in tema di sanità che diventa quanto mai attuale, anche se non sono siglate ancora tutte le convenzioni con le aziende ospedaliere, manca quella ospedale Pisana e il Meyer. Posso dire che è brillante il lavoro del Difensore Civico per quanto riguarda la conciliazione presso a RERA, presso all'autorità idrica toscana. Ci sono sicuramente degli aspetti da affrontare, quello di cercare di favorire sempre più la conoscenza di questo istituto anche tra i giovani. È sempre più attuale anche l'esigenza di arrivare a una armonizzazione delle varie legislazioni regionali e finalmente di un adeguamento anche della legislazione regionale toscana e non posso che condividere anche le esigenze che ci siano anche le adeguate risorse personali perché sono avvenuti alcuni pensionamenti che occorre quindi provvedere a riguardo. Il Difensore Civico ha fatto un grandissimo lavoro, ha svolto un lavoro straordinario soprattutto nelle attività di conciliazione, di mediazione. Lo ha fatto sia in ambito sanitario quando nell'azienda sanitaria si è posto come interlocuzione dei soggetti deboli, fruitori del sistema sanitario per trovare livelli di conciliazione. Lo ha fatto soprattutto al cospetto delle autorità idriche e lo potrà fare, come ho chiesto io, nei prossimi anni anche come interfaccia del settore energetico e del settore delle multiutility. Quindi serve qualcuno che aiuti i più deboli a difendersi da questi macro soggetti economici che ormai non sono più radicati o presenti nella porta accanto di un territorio ma che magari è molto difficile anche con i quali parlarci, difendere il cittadino al cospetto della varietà dei multiservizi che oggi una persona deve fruire. E quindi a mio avviso finora il lavoro è stato svolto molto bene e abbiamo chiesto di continuare a farlo e di investire anche su questi altri settori. Il Difensore Civico continua ad essere un'istituzione molto importante per la Regione Toscana e gli appunti che sono stati fatti naturalmente ne abbiamo preso atto però rimane comunque sia uno dei baluardi per la difesa del cittadino specialmente in questi momenti quindi è importante riuscire a collaborare insieme. Non siamo assolutamente soddisfatti, lo abbiamo evidenziato, lo abbiamo detto in aula lo abbiamo detto con grande forza. Il Difensore Civico per noi sta sbagliando indirizzo fra l'altro ci sono delle voci che non ci tornano assolutamente. Abbiamo visto che ci sono delle spese per buffet 2.137 euro per un buffet offerto a Siena a 100 persone Abbiamo visto che c'è una spesa di 900 euro per un convegno ad Arezzo dove è stato offerto un altro Light Lunch Abbiamo visto che ci sono spese per 20.000 euro per una consulenza in comunicazione Abbiamo visto che c'è un'altra consulenza per 9.700 euro per un'altra consulenza in comunicazione Abbiamo visto che negli ultimi anni, cioè da quando si è insediato questo Difensore Civico Nel 2018, nel 2017 le spese per l'attività erano 2.137 euro, 2.400 euro Oggi nel 2018 siamo arrivati a spendere 40.000 euro con uno stipendio da 63.000 euro e con 12.000 euro di rimborsi anno Ecco, tutti questi numeri non ci tornano a noi Per questo abbiamo votato contro alla relazione e fra l'altro abbiamo votato contro anche perché i numeri danno torto a questo Difensore Civico Le pratiche sono meno, sono 1536, quindi meno di quelle che venivano fatte nel 2017, nel 2016 o nel 2015 La Giunta regionale valuta la trasformazione di Fidi Toscana in una società in-house della Regione Lo ha annunciato l'assessore all'economia Leonardo Marras in una comunicazione al Consiglio Il dibattito si è concluso con l'approvazione di una risoluzione di maggioranza che condivide i contenuti e le finalità della comunicazione Sono le linee giuste, occorre veramente fare una riflessione attenta partendo da quello che Fidi Toscana ha rappresentato negli anni che ci stanno alle spalle con risposte anche molto importanti per cercare di avere uno strumento che possa accompagnare le nostre imprese nel mercato finanziario del futuro definendone quale sarà la natura, quale sarà la dotazione Quindi credo che affidarsi ad una società specializzata sia un'altra scelta importante perché noi dobbiamo ascoltare tutte le proposte che arrivano quelle dal Consiglio di Amministrazione di Fidi Toscana attuali quelle che possono venire da soggetti istituzionali, da soggetti creditizi, da soggetti sociali o economici Credo che alla fine sia giusto, dopo aver ascoltato tutti, poter assumere delle decisioni che siano molto consapevoli e che soprattutto dotino la Toscana di uno strumento che sia maggiormente flessibile, immediato, che possa veramente essere utile alle nostre imprese per essere sostenute e accompagnate nell'ambito del mercato finanziario Nei prossimi anni arriveranno anche risorse importanti dal PNNR, arriveranno dai fondi europei dai fondi nazionali e credo che questo sarà ovviamente l'aspetto molto più importante ma avere uno strumento di intermediazione sarà altrettanto fondamentale per cui questo percorso si dovrà concludere con la decisione che sarà sicuramente la più consapevole e sarà la più adeguata tenendo conto anche delle esperienze che altre regioni hanno fatto attorno a noi Allora, l'assessore Marras ha ripercorso velocemente il passato di Fidi Toscana perché non è un passato esaltante, soprattutto negli anni a cavallo fra il 2009 e il 2013 quando anche Banca d'Italia è intervenuta pesantemente per riprendere la finanziaria regionale è ovvio che l'ultimo Consiglio d'amministrazione ha lavorato soprattutto per recuperare le perdite che si erano accumulate negli anni scorsi e gli ultimi due bilanci hanno chiuso in positivo ma questo non può più essere sufficiente per questo è partita la riflessione sul futuro della finanziaria regionale una finanziaria che dia sostegno ai cittadini e alle imprese toscane e per farlo naturalmente dobbiamo capire quale modello seguire perché in realtà mezza Italia si è già mossa dalla Lombardia alla Liguria, dal Lazio alla Puglia tutte le altre regioni si sono dotate di uno strumento più flessibile che utilizza anche sistemi innovativi come i mini bond per finanziare le attività imprenditoriali del proprio territorio mentre in Toscana ci stiamo ancora attardando in attesa della nomina attraverso un bando di un advisor che faccia la valutazione della società e quindi ci dica se si può spacchettare le partecipazioni private che sono rimaste cioè le due grandi banche Monte dei Paschi e Intesa San Paolo più un'altra serie di istituti di credito con percentuali molto basse di partecipazione e dopo che, lo voglio ricordare, tutti gli enti locali, circa 78 che facevano parte del capitale di Fidi Toscana negli ultimi due anni sono usciti dal patrimonio o meglio, scusate, dal capitale sociale dell'azienda in questo caso rimettendo, come abbiamo detto a Gianni nelle mani del governatore e della politica regionale una grande responsabilità perché gli enti locali sono i primi rappresentanti dei cittadini e delle imprese del nostro territorio e si aspettano che la regione sappia trovare uno strumento utile che con mezzi moderni sostenga l'economia locale deve cambiare, a mio avviso è terminato un percorso serve oggi uno strumento, un soggetto finanziario nuovo che sia in grado da una parte di intercettare i finanziamenti comunitari di essere un'interfaccia nei confronti del governo anche per le risorse dei recovery fund e nello stesso tempo sappia emergere e far emergere dal basso, dal territorio le idee imprenditoriali migliori accompagnare la crescita delle imprese investimenti nei capitali, nei mini bond nella possibilità di strutturare le aziende per il capitale che molte volte manca ma magari ci sono le idee quindi deve essere un soggetto finanziario che sia d'accollante da una parte verso il basso nelle aree di sviluppo economico della Toscana dove il territorio, la regione, i sindaci conoscono le imprese migliori che stanno emergendo dall'altra un'interfaccia verso l'alto che sappia intercettare i finanziamenti comunitari e nazionali quindi mi auguro che questo sia l'anno della svolta che termini l'esperienza per quello che finora adesso abbiamo conosciuto di Fidi Toscana non siamo soddisfatti perché prima dobbiamo fare la fotografia di quello che è successo Fidi Toscana negli ultimi dieci anni ha perso 47 milioni di euro negli ultimi dieci anni ha bruciato quasi 70 milioni di euro di capitalizzazione questo è quello che è successo in regione Toscana con Fidi Toscana lo dicevamo da anni state attenti perché quella società così come oggi non può andare avanti e non può andare avanti perché ormai c'è stata la modifica della lettera L del decreto Bassanini le garanzie le dà il credito centrale e quindi è anacronistica tenuta così come oggi però non ci ha soddisfatto perché non ci ha detto dove andremo la faremo in house con quali tempi se continuiamo così Fidi Toscana perderà dai 3 milioni e mezzo ai 5 milioni di euro ogni anno Sarà l'ufficio di presidenza del consiglio regionale a proporre un ufficio di presidenza provvisorio per la commissione speciale per il supporto il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale durante la seduta di insediamento che si è tenuta mercoledì 5 maggio infatti non è stata raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina dell'ufficio di presidenza della commissione due le liste presentate durante la riunione di insediamento la prima firma della maggioranza con le candidature di Enrico Sostegni PD presidente Marco Landi Lega vicepresidente e Andrea Vannucci PD segretario equestore la seconda firma dei componenti dell'opposizione proponeva Marco Landi come presidente Stefano Scaramelli Italia Viva come vicepresidente e Silvia Noferi Movimento 5 Stelle come segretaria la proposta delle opposizioni è stata rifiutata da Scaramelli annunciando che non avrebbe partecipato al voto perché non interessato alle poltrone cosa che ha portato al ritiro della lista una commissione per celebrare il sommo poeta autore della Divina Commedia e simbolo della cultura italiana nel mondo a 700 anni dalla morte di Dante Alighieri scomparso nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 il Consiglio regionale celebrerà questo anniversario organizzando eventi e promuovendo in particolare mostre ed esposizioni, iniziative di studio e di ricerca convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli è quanto prevede una proposta di legge approvata dalla Commissione Cultura Grazie a tutti Grazie a tutti